L'ex scuola di Bonacina ospiterà temporaneamente una trentina di migranti. La decisione presa dall'amministrazione comunale è stata condivisa con gli organi della prefettura e con l'assemblea dei sindaci e con i residenti nel quartiere, nonostante qualche perplessità, durante un'assemblea pubblica. Ieri abbiamo voluto incontrare i cittadini di Bonacina per raccontare quella che è una richiesta che proviene dalla prefettura di Lecco per far fronte all'ingente numero di richiedenti asilo politico che, come tutti sappiamo, stanno giungendo anche sul territorio lecchese. Abbiamo voluto fare questo passaggio col territorio perché non volevamo calare dall'alto una decisione presa dalla prefettura e dal comune, ma condividere con le persone che abitano il rione quello che vogliamo che sia un processo temporaneo, prima di tutto, perché ci siamo dati otto settimane, abbiamo dato disponibilità per la struttura per otto settimane e soprattutto il meno traumatico possibile per le persone coinvolte che sappiamo che affrontano dei viaggi molto faticosi e pericolosi, ma anche per le persone che abitano Bonacina perché sappiamo essere un rione da sempre tranquillo e crediamo che ci sia la necessità da parte nostra come amministrazione non solo di pensare alla copertura dei posti, cioè all'alloggiamento di queste persone, ma anche l'accompagnamento in percorsi di integrazione. Noi avremmo preferito altre strade, l'abbiamo dichiarato pubblicamente, noi crediamo nell'accoglienza diffusa, quella fatta di piccoli numeri in appartamenti distribuiti sul territorio, ma è anche vero che la richiesta della prefettura era una richiesta stringente in un momento complicato e quindi abbiamo voluto non sottrarci come comune capoluogo e dare questa disponibilità con l'auspicio, però questo l'abbiamo detto in maniera chiara, che il governo possa ascoltare la voce non solo del comune di Lecco, ma di tutti i comuni d'Italia, senza distinzione politica, che hanno fatto una richiesta precisa al governo, quella di rifinanziare l'accoglienza diffusa, quella sul territorio, quella che distribuisce le persone in vari comuni, evitando dunque che in futuro ci possano essere concentrazioni come quelle che interesseranno buona città di 30 persone o addirittura peggio. Ecco, noi vogliamo scongiurare assolutamente queste ipotesi.